Una emissione, un incendio o una esplosione possono provocare la diffusione di sostanze pericolose nell'aria. In caso di rischio incidente rilevante cerca un rifugio sicuro. Se sei all'aperto copriti la bocca e il naso con un panno bagnato. Se sei al chiuso chiudi e sigilla porte e finestre. Spegni condizionatori e aeratori, tieni libero il telefono, tieniti informato e al cessato allarme, fai circolare aria pulita negli ambienti.